un caro saluto amici amiche di tv6 e bentornati all'appuntamento col meteo diamo subito uno sguardo al satellite che ci mostra un italia quasi del tutto sgombra da rubi questo grazie al ritorno dell'alta pressione che a breve riconquisterà anche il dimenticato nord italia porterà quindi bel tempo soprattutto da domenica in poi sarà un anticiclone che darà inizio alla seconda data di caldo di quest'estate particolarmente rovente durante la prossima settimana per quanto riguarda questo sabato poco da dire tempo stabile su tutto l'abruzzo con cielo sereno qualche nube in montagna senza conseguenze clima direi molto mite gradevole e con nulla a che vedere col caldo a foso dei giorni scorsi le massime saranno comprese generalmente tra i 27 e i 29 gradi le minime tra 13 e 18 gradi insomma a caldo in pieno giorno ma senza eccessi il mare sarà calmo con questa conclusa ci rivediamo nel prossimo aggiornamento sempre qui su tv6